L'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è morto nella tarda mattinata di mercoledì 30 novembre in un incidente stradale durante un allenamento in bici. Una delle migliaia di volte che aveva inforcato la bici che tanta soddisfazione aveva dato a lui e ai nostri colori. Il dramma si è consumato poco prima di mezzogiorno lunga la regionale 11 a Montebello Vicentino. Rebellin è stato travolto e ucciso da un camion che poi si è allontanato. Il campione di Lonigo dopo 30 anni di professionismo aveva chiuso la sua carriera poco più di un mese fa con la partecipazione alla Veneto Classic classe 1971. Nel 2004 vinse in otto giorni Amstel Gold Race, Frecciavallone poi conquistata altre due volte e Liegi. L'incidente come detto è avvenuto lungo la strada regionale 11 a Montebello all'altezza di un locale, il bar-ristorante La Padana. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante nell'uscire dallo svincolo avrebbe colpito e travolto Rebellin per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'autista non si è fermato allontanandosi ma non è ancora chiaro se si sia accorto o meno di quanto era successo. Sul posto è intervenuto il suo M118 ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'ex campione. Tante le maglie vestite da Rebellin tra cui Francais De Geux, Polti, Liquigas e Geron Steiner. L'ultima era stata quella della Work Service. Tantissime le reazioni di cordoglio sui social. Una su tutte, quella della CT azzurro Daniele Bennati. Ditemi, ha detto che non è vero.